Michelle Hunsiker Michelle Hunsiker emozionata per il regalo di compleanno di Belen Michelle Hunsiker compleanno, il regalo di Belen Rodriguez stupisce. Si rafforza sempre più il legame tra Michelle Hunsiker e Belen Rodriguez. Dopo aver condotto striscia la notizia insieme, le due showgirl sono diventate amiche. Tanto che l'Argentina non si è dimenticata del compleanno della collega, che ha compiuto 41 anni il 24 gennaio. L'ex moglie di Stefano De Martino si è resa protagonista di una gradita sorpresa, che tanto ha emozionato la Hunsiker. Che, in credula e al settimo cielo, ha subito condiviso il regalo della Rodriguez su Instagram. Che regalo ha fatto Belen a Michelle? Niente di eccessivamente costoso o proibito, la fidanzata di Andrea Iannone ha fatto recapitare a casa della moglie di Trussardi un bellissimo mazzo di rose color pesca . . Un gesto gentile ed elegante, che ha spiazzato la conduttrice del Festival di Sanremo 2018. . E tornando a casa trovo questo mazzo da Belen Rodriguez e regalarsi i fiori tra donne è un gesto che mi emoziona e grazie tesoro, di cuore ha fatto sapere Michelle Hunsiker in una storia di Instagram. . Il regalo ha davvero emozionato la presentatrice di Strescia la notizia. . La sorella di Cecilia e Jeremias, invece, ha fatto nuovamente centro, dimostrando ancora una volta il suo grande cuore. . Un gesto quello di Belen nei confronti di Michelle che attesta anche che non cè sempre rivalità tra donne nel mondo dello spettacolo. . A volte si può pure essere ottime amiche e colleghe, come nel caso della Rodriguez e della Hunsiker. . Michelle Hunsiker ha ricevuto fiori anche dal marito e a Strescia. . L'ultimo compleanno è stato all'insegna dei fiori per Michelle. . Oltre a Belen Rodriguez, la Hunsiker ha avuto un omaggio floreale dal collega Geri Scotti a Strescia la notizia. . Non è mancato all'appello il marito Tommaso Trussardi, che ha invece fatto recapitare alla moglie ben 100 rose rosse. .